Ho solo perso la mia voglia di essere come tanti altri sportivi, ma il ciclismo ha pagato e molti ragazzi hanno perso la speranza della giustizia. E io mi sto afferendo con la deposizione di una verità sul mio documento, perché il mondo si renda conto che se tutti i miei colleghi hanno subito umiliazioni, in camera, con le telecamere nascoste, per cercare di rovinare le famiglie, e poi dopo come fai a non farti male. Io so di avere sbagliato con le prove però, ma solo quando la mia vita sportiva, soprattutto privata, è stata violata, ho perso molto. E sono in questo paese con la voglia di dire che hasta la vittoria è un grande scopo per uno sportivo. Ma il più difficile è di avere dato il cuore per uno sport, con incidenti e infortuni, e sempre sono ripartito. Ma cosa resta? C'è tanta tristezza e rabbia per le violenze che la giustizia a tempi è caduta nel credito. Ma la mia storia spero che sia di esempio agli altri sport, che le regole, sì, ma devono essere uguali per tutti. Non esiste lavoro che per esercitare si deve dare il sangue, i controlli di notte alle famiglie degli atleti. Io non mi sono sentito più sereno di non essere controllato in casa, in albergo, dalle telecamere, e sono finito per farmi del male, per non rinunciare alla mia intimità, l'intimità della mia donna e degli altri colleghi che hanno perso. E molte storie di famiglie violentate. Ma andate a vedere cos'è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torrida tristezza per cercare di ritornare con quei sogni di uomo che si infrangono con le droghe. Ma dopo la mia vita di sportivo. Questo documento è verità, la mia speranza è che un uomo vero, una donna, legga e si ponga in difesa di chi, come si deve dire al mondo, regole per sportivi uguali per tutti. E non sono un falso, mi sento ferito e tutti i ragazzi che mi credevano devono parlare. Ciao, Marco.